Le alternative per me sono due. O il percorso individuale, o il percorso clanico. Se la famiglia è un clan, allora ha senso. Noi siamo un clan, mamma. Volevo due, non i vorici. Quanti io li so. Che lavoro fai? Voi che ci fate che i soldi? Quando pensavi di farlo? Oggi. L'unico modo per fare amicizia con la rabbia è vincere, papà. Io vengo da una famiglia povera. Questa è la differenza fra me e te. Le persone non sono come pensi tu. Adesso d'è me! Senti di seduto! Le persone soffrono. Volevi in tranquillamente.